e c'è Diago Motta e c'è Diago Motta che è venuto mettere il segretto di coração ti desejo tutto di meglio da qui per la frente dentro di campo tu fai fiera mesmo, tutto di meglio di coração, vamo giunti ciao Kaiser tutte le carriere hanno un fine tu hai deciso di finire adesso ti voglio ringraziare per quel anno che abbiamo giocato insieme e pure incontro per me Tiago è un giocatore di classe dei 100 giocatori più forti del terreno grazie per questo e dimenticare tutto di meglio perchè ti merece il tuo futuro un beaggio grande siamo insieme grazie 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 per tutta la tua tragettoria per il mondo del futebol per tutti i clubi cittadini e paesi che hai passato una etapa molto bella è un grande uomo è un grande uomo è un grande uomo prima di tutto è un grande uomo è un grande uomo è un grande uomo è un grande uomo e credo che mi ricordo molto di averlo con lui e quindi colgo l'occasione innanzitutto per farti i complimenti per la carriera fantastica che hai fatto grazie grazie per questa grande carriera che hai fatto come come futbolista qualcosa che parecì impossibile lo facciamo possibile sempre ti dice dame il ballone al piede e lo facciate di una maniera incredibile come tu solo lo sai fare grande Kaiser mi manchi un abbraccio ciao 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 papà io ti amo e sono molto fieri di te qui si c'è pari